Buongiorno e ben ritrovati con Stoppengo Salute, il nostro appuntamento settimanale dedicato al mondo della salute e del benessere e questa mattina avremo come sempre tanti approfondimenti. Filo conduttore saranno le fasi della vita in cui si ha più bisogno di un sostegno, quindi parleremo dell'importanza anche della riabilitazione per le persone anziane, ma non solo, parleremo anche molto di bambini con tutte le iniziative messe in campo da Unicef in Liguria e a Genova, parleremo di una nuova figura professionale che poi tanto nuova come scopriremo non è, ovvero la Dula che serve da sostegno per le mamme ma non solo e quindi vogliamo partire insieme con questa mattinata parlando proprio della gravidanza, un momento che è delicato quanto bello. Allora abbiamo il piacere di avere qui con noi ed è un piacere ritrovarla, Michela Verardo, ben ritrovata. Ciao Giorgia, buongiorno a tutti. Personal Fitness Trainer del Centro Salute e Movimento che ci spiegherà quando e perché bisogna fare movimento soprattutto durante la gravidanza. Benvenuto anche al dottor Francesco Cinquegrani. Grazie, buongiorno a tutti. Fisioterapista e osteopata perché vogliamo capire come mai l'osteopatia serve anche alle donne in gravidanza e magari anche partendo dal che cos'è l'osteopatia perché non tutti la conoscono. Ma iniziamo parlando proprio di gravidanza. Michela noi lo sappiamo, un momento ce l'avevi già raccontato e già spiegato più volte, particolare, delicato, in cui a volte si tende insomma a utilizzare quasi come scusa il fatto di essere in gravidanza per non fare movimento. Errore. Errore gravissimo direi e anzi è importantissimo fare movimento sempre nella vita. In gravidanza lo è in modo particolare proprio perché non bisogna usare questo momento della vita come alibi, anzi bisogna prenderlo come spunto in più per combattere la sedentarietà e prendersi cura di se stesse perché si fa un regalo, un grosso regalo a se stesse, al proprio corpo, al proprio assetto psicologico direi, ma anche al nascituro nel fare movimento. Innanzitutto perché il fare movimento mantiene attive, perché aumenta la produzione di betendorfine che sono questi ansiolitici naturali che noi produciamo quando facciamo movimento e che quindi sono in grado di diminuire la percezione dello stress sia psicologico che fisico. L'esercizio fisico in gravidanza comporta che la donna in gravidanza poi arrivi al parto più in forma, quindi più capace di produrre una performance importante come quella del parto e quindi diminuiscono, e questo è un dato assolutamente statistico, diminuiscono moltissimo i parti cesarei nei confronti di donne che in gravidanza hanno fatto attività fisica, comunque hanno seguito un programma di allenamento in qualche modo. Inoltre il fatto di fare attività fisica, e questo non ci dimenticheremo mai di ripeterlo, alla nausea, comporta un aumento del metabolismo basale, un aumento del catabolismo lipidico ed è dimostrato che le donne che arrivano al parto avendo preso una quantità di chili giusta, danno anche un imprinting al bambino che sarà più in grado durante la sua vita extrauterina di mantenersi più facilmente in forma, cioè prenderà peso meno facilmente. Tanto per essere chiari, una donna che arriva in grosso sovrappeso al parto facilmente partorirà un bambino grande e già è una difficoltà perché un conto partorirà un bambino di 3 kg, un conto partorirà uno da 4 kg e mezzo, non fa piacere a nessuno. Voglio dire, è comunque abbastanza doloroso comunque. Intanto stiamo vedendo, Michela, delle immagini che si riferiscono proprio... Sì, alla mia gravidanza. Alla tua gravidanza? Alla mia gravidanza. Quindi esercizi proprio particolari, quindi studiati assolutamente. Questo nella fattispecie è un esercizio di mobilità che si può fare anche, anche questo che stiamo vedendo in questo momento, che si può fare anche durante il travaglio. Infatti ci sono, durante i corsi di preparto, anche le ostetri che insegnano a fare questi esercizi. Per cercare di non pensare anche? Ma anche perché no, sì, per cercare di non pensare per focalizzare l'attenzione non sul dolore che arriva, perché inevitabilmente arriva, ma su quello che si sta facendo, l'obiettivo che è quello di far nascere il bambino. E aiuta proprio il bambino ad entrare meglio nel canale del parto e poi aiuta la donna proprio anche a rilassarsi, a trovare un modo di decentrare l'attenzione rispetto a, ovviamente, i dolori delle contrazioni. Allora, magari tra poco possiamo anche dare dei consigli pratici, cioè magari che cosa può fare una mamma, quali esercizi può fare. Soprattutto che cosa non fare. Esatto, soprattutto cosa non fare. Ma un altro aspetto che vogliamo sottolineare è quello che riguarda l'osteopatia. Beh, intanto le chiedo subito, dottore, che cos'è l'osteopatia perché, insomma, se ne sente parlare moltissimo, ormai a tutte le età, vedremo che anche per i bambini è una pratica indicata, ma che cos'è nello specifico l'osteopatia? Appunto, a tutta l'età. Cos'è l'osteopatia? L'osteopatia non è altro che una terapia manuale che nasce a fine 1800 in America da un medico di allora, di quei tempi che viveva in un ambiente molto rurale, che ha iniziato a osservare le ossa, a vedere un po' che cosa. E ha deciso di coniare proprio questo termine, che dal greco vorrebbe significare osteos e patos, cioè patologia dell'osso, mentre lui ha cercato di dargli il significato del osteopat, quindi la seconda parte del nome a un'etimologia anglosassone, per cui dove pat sta ad indicare il sentiero o la direzione. Per cui, appunto, dall'America poi l'osteopatia si sviluppa e gira in tutto il mondo, prima nei paesi anglosassoni, poi francofoni e finalmente arriva in Italia, dove appunto... Un po' dopo. Un po' dopo, arriva circa 30 anni fa, circa, e adesso riscuota il notevole successo grazie appunto a quelle che sono poi i risultati ottenuti da questo successo. A livello proprio pratico, perché una persona si rivolge all'osteopata in generale? Poi vedremo magari per le donne in stato di gravidanza quali sono, insomma, le patologie o le pratiche. E allora, perché si rivolge all'osteopata? Per svariati motivi, perché comunque l'osteopatia comprende la persona nella sua globalità. Quindi, Andrew Taylor Steele, appunto, il fondatore dell'osteopatia, diceva conosci la fisiologia, conosci l'anatomia, ma ricordati che nella persona che stai trattando esiste un'anima. E qui, appunto, entriamo nello specifico dicendo che oltre a livello fisico, oltre a livello puramente strutturale che si può intendere dell'osteopatia, un trattamento osteopatico coinvolge l'intera persona. E, sempre ritornando al fondatore dell'osteopatia, Steele, diceva che l'osteopatia va a ricercare quelle situazioni dove vi è una latenza di movimento. E mi riallaccio al discorso di cui stamattina si parla, appunto, di movimento in particolare. La vita è movimento, per cui l'osteopatia non fa altro che andare a ricercare quelle zone di restrizione che possono ritrovarsi sia a livello fasciale, sia a livello strutturale, sia a livello organico, cioè dei visceri, delle varie articolazioni, eccetera, eccetera, per andare a ritrovare quelle restrizioni di movimento e ridare libertà, appunto, ad esse. Ecco, quindi di fatto una mamma che, come sappiamo, deve fare movimento perché è una futura mamma, anzi, una donna in stato di gravidanza, oltre a fare movimento, tra poco vedremo anche che cosa fare, può rivolgersi all'osteopata per anche, non so, sentirsi, rilassarsi in un modo particolare, possiamo dire così, perché poi anche effettuare dei massaggi o quant'altro durante la gravidanza è, insomma, un aspetto delicato. A volte ci vogliono le precauzioni e le dovute indicazioni del caso. Partiamo dal presupposto che tutto il nostro corpo, tutti i nostri organi sono sottoposti a delle pressioni. Abbiamo una pressione a livello renale, abbiamo una pressione a livello epatico, abbiamo una pressione sanguigna a livello arterioso ed questo per darvi, abbiamo una pressione che è negativa a livello polmonare e l'organismo intero riesce a bilanciare, ad equilibrare tutte queste pressioni che ci sono a livello interno. Durante la gravidanza, che cosa si ha? Un'ulteriore aggiunta di un'altra pressione che parte dall'utero e che coinvolge tutto l'organismo intero, con i vari coinvolgimenti ormonali, eccetera, eccetera. È un cambiamento veramente repentino, perché è molto veloce, anche se temporalmente nove mesi sembrano tanti, ma effettivamente in una persona un cambiamento di variazione di peso, ma soprattutto di pressioni, dà degli stimoli veramente importanti. Motivo per il quale, appunto, l'intervento dell'osteopata a quel punto serve per aiutare tutte queste modificazioni affinché avvengano in maniera graduale e riuscendole ad accettare gradatamente. È consigliabile a una donna in gravidanza essere seguita dal terzo mese di gravidanza in poi, una volta al mese può bastare, e questo per un beneficio che sicuramente sarà preventivo per tutta la vita futura, perché oltre a queste pressioni poi vi sarà l'evento che è, tra virgolette, appunto, sottolineo il tra virgolette, è l'evento più traumatico, cioè quello del parto, che è da un lato traumatico, ma dall'altro assolutamente necessario e fisiologico. E come dice sempre Michela, è la miglior performance, anzi quella più difficile di tutta una vita. Stiamo vedendo anche delle immagini che si riferiscono al movimento in acqua, perché in acqua forse si è facilitati durante la gravidanza, visto che non c'è, diciamo, il peso del pancione, quindi si riescono a fare anche dei movimenti diversi. Certamente, in acqua si può fare moltissimo, la donna, diciamo, in gravidanza ha già delle difficoltà di movimento su e che invece in acqua diventano più facili, no? Molte cose si possono fare, i medici, gli osteopati, i ginecologi consigliano il movimento in acqua, si può fare anche a secco. In acqua qui vediamo, per esempio, nelle immagini che, oltre ad essere più facile il movimento, diventa anche molto rilassante, perché l'acqua è un elemento di per sé rilassante e in qualche modo mette anche in comunicazione ulteriore la mamma con il bambino, perché il bambino comunque è all'interno di un ambiente acquatico. E laddove si fanno degli esercizi in triade con il papà, come in questo caso, diventa un momento anche emotivamente particolarmente bello, particolarmente suggestivo. Al di là di questi momenti di relax, di respirazione, insomma, di emozioni molto forti, ci sono poi tutti gli esercizi che si possono fare in un corso, diciamo, di acqua gym per gestanti, laddove, seguiti da una professionista del campo, ci si può anche proprio tenere veramente in forma, migliorando quindi soprattutto, diciamo, gli aspetti della performance cardiovascolare, la respirazione, si fa un bel massaggio in acqua. La respirazione è un altro aspetto. Esatto, si fa un bel massaggio in acqua, quindi la preoccupazione rispetto alla cellulite che si accumula sulle cosce in gravidanza e che purtroppo è un... Perché sono tutte poi, insomma, domande che le future mamme si pongono. Assolutamente, assolutamente. Anche come diceva il dottore, cambia sia il fisico di una donna in nove mesi, cambia però anche a livello proprio psicologico, insomma, un grande cambiamento. Quindi per questo voi sottolineate sempre l'aspetto anche psicologico, del relax, del sentirsi bene anche a livello mentale. Certo, poi come diceva il dottor Cinquegrani, giustamente sottolineando che per quanto riguarda il massaggio bisogna sempre stare piuttosto attenti. Il massaggio che esercita l'acqua nel fare un'attività fisica comunque sempre blanda, comunque sempre pergestanti in acqua, sicuramente esercita un massaggio che è molto benefico. Poi si possono fare anche tutta una serie di attività a secco che servono molto per mantenere un tono muscolare buono. Naturalmente non si può pensare di aumentare la massa muscolare in gravidanza, non è proprio il caso, però il mantenimento del tono. Si possono fare esercizi di yoga, si possono fare esercizi con piccoli attrezzi anche da casa, da un fitness, con elastici, con pesi, con le fitball, esercizi a corpo libero. Chiunque può farlo anche a casa. Assolutamente. Non bisogna per forza, se ovviamente si capisce, magari in un primo istante, in un primo momento consigliati da uno specialista, perché dicevamo i movimenti sono importanti, però sono cose che poi una donna può fare a casa. Quante volte a settimana, se dobbiamo dare un consiglio, oltre che so che il vostro cavallo di battaglia è andare a prendere il caffè a piedi, quindi camminare moltissimo, questo è il senso. Sì, ma in realtà due o tre volte alla settimana ci si può allenare, facendo, se si fanno esercizi di tono muscolare, delle tre serie da 12-15 ripetizioni, sempre con, prima di tutto, il benessere del medico, perché la gravidanza deve essere fisiologica. E in secondo luogo, avendo sempre a mente che se non si hanno delle competenze proprie di un certo livello, bisogna farsi seguire da un professionista. Assolutamente. Anche un consiglio flash su quante possono essere invece le sedute di osteopatia, quante volte ci si può andare a fare anche coccolare, diciamo così, perché in realtà ci si prende cura anche del benessere psicofisico per una mamma, una futura mamma, una donna in stato di gravidanza? Prima tendenzialmente avevo dato già un'indicazione sul discorso che durante l'arco della gravidanza appunto iniziare a trattare una donna in gravidanza dal terzo mese in poi è tendenzialmente una volta al mese per cercare di ristabilire, cioè aiutare, come si diceva prima, a mantenere un equilibrio costante in relazione ai cambiamenti repentini che ci sono durante tutto quel periodo lì. E poi naturalmente può essere aggiunto qualche trattamento in più in relazione a problematiche che possono sorgere durante questo periodo. Però in linea di massima diciamo una volta al mese. Però in linea di massima una volta al mese può essere una buonissima indicazione. Invece camminare tantissimo, questo è il consiglio che diamo sempre, Michela, per chiudere questa parte dedicata al movimento. Non stare sul divano, o stare anche sul divano, però. Sì, ma starci, ma proprio quando è necessario. Insomma, bisogna pensare che il fatto di muoversi è una coccola, è un prendersi cura di sé, non è il fatto di stare sdraiate sul divano ad aspettare passivamente che arrivi il momento del parto. Quindi seguite il consiglio, fare tanto movimento. Grazie a Michela Verardo. Grazie a te Giorgia e buongiorno a tutti. Grazie al dottor Francesco Cinquegrani. Grazie a te Giorgia e buongiorno a tutti. Noi ci fermiamo solo qualche istante, ma lo sapete, stop in go continuo e parleremo della Dula, una figura che sembra nuova ma in realtà antichissima, come scopriremo tra poco.